Siamo pronti a introdurre Siamo pronti a introdurre oggi quella che è l'appuntamento, diciamo la madre di tutti gli appuntamenti sull'agricoltura nel nord Italia, non solo nel Mantovaro. Eh sì perché è iniziata sabato la fiera millenaria di Gonzaga e oggi vi parleremo di tutti gli appuntamenti che riguardano Confagricoltura e lo faremo con il presidente Matteo Lasagna, benvenuto. Grazie. E il direttore Daniele Sfulcini, benvenuto. Tanti gli appuntamenti, direi che l'ordine cronologico in questo caso ci aiuta perché forse è anche l'ordine di rilevanza, mi viene da dire, sulle tematiche. Ogni anno Confagricoltura cerca di dare agli addetti ai lavori, ma in qualche modo a tutti coloro che passano per la fiera, certe tematiche forti. Questa, quella della PAC che andiamo a introdurre col presidente e poi col direttore, forse è quella più urgente nella comunicazione. C'è molto da cambiare, ci sono nuovi scenari da affrontare. Qui in fiera dove si guarderà? Cosa si cercherà di comunicare? Innanzitutto, grazie, Confagricoltura ha voluto riproporre la formula del Confagricoltura Village, quindi il villaggio di Confagricoltura ancora quest'anno alla fiera millenaria, perché crediamo sia la formula migliore per far conoscere quella che è l'agricoltura mantovana, non solo e soltanto agli addetti ai lavori, ma soprattutto al grande pubblico. Parlare di PAC oggi, per rispondere subito alla domanda, è parlare di una grande incertezza che il mondo agricolo sta vivendo. Non solo e soltanto nel riferimento agli addetti ai lavori, quindi agli imprenditori agricoli, per quello che è la natura della PAC, dei contributi che vengono dati all'agricoltura, per far che cosa? Per sviluppare meglio quelle che sono la nostra qualità e la nostra sicurezza alimentare. E da questo punto di vista la partita che abbiamo in gioco fra quest'anno e il prossimo anno, anno peraltro di rinnovo del Consiglio europeo in toto, è una partita interessante, perché guarda caso va a cadere con quello che è il rinnovo della programmazione, quindi la prossima programmazione agricola comune dal 2021 per i prossimi 5 anni, vedrà tutti quelli che sono i destini non solo e soltanto dell'agricoltura italiana, ma soprattutto dell'agricoltura mantovana, che è parte fondamentale dell'agricoltura italiana, visto che nella nostra provincia le produzioni di qualità, dal grana padano al parmigiano reggiano, al prosciutto di Parma, al prosciutto di San Daniele, sono enormi in senso di numero e anche in senso di valore. Parlare di PAC oggi non ci sembra assolutamente una cosa azzardata, anzi ci sembra di parlare di attualità, portando quelle che sono le preoccupazioni degli addetti ai lavori, parlando anche di quello che è una risposta, un questionario che è stato prodotto dalla comunità europea negli scorsi anni e a cui hanno risposto tutti i cittadini europei, quindi abbiamo coinvolto anche i consumatori in questo e crediamo che quando si parla di gestione di soldi pubblici tutti debbano partecipare, per cui abbiamo voluto puntare l'attenzione in questa fiera storica per Mantova, che parla di agricoltura, appunto sulle basi dell'agricoltura, che è la politica agricola comune. Passo indietro, sottolineo quello che ha detto poco fa anche il Presidente, c'è la riproposizione del Conf Agricoltura Village in fiera, quest'anno, per la prima volta, mi corrigo se sbaglio, all'interno del padiglione zero, quindi direi che lo vedranno tutti coloro che andranno in fiera e nel cuore, nel padiglione che è il cuore della fiera stessa. Avendo rivoluzionato dal punto di vista logistico quella che è la fiera millenaria, anche noi abbiamo portato il Conf Agricoltura Village dalla sede del conventino dove eravamo negli scorsi anni alla sede della fiera, quindi il padiglione zero, dove si parla di Mantova Golose, dove si parla di tutta quella che è agricoltura, oltre ai tanti e ampi spazi che la fiera può offrire. Direttore, sicurezza, risposte sulla sicurezza sono sempre quelle più richieste, evidentemente, dagli addetti ai lavori ed è un tema molto caro anche a Conf Agricoltura. Fuori dalla fiera, ne parlate spesso, in eventi anche recenti, la PAC verte anche molto su quello, ci pare di capire, la partita che si gioca, quantomeno sulla PAC. Noi, come diceva il Presidente, abbiamo puntato un po' la cosa sulla PAC, perché riteniamo che il dovere dell'organizzazione sia quello di anticipare un po' quelli che sono i cambiamenti e cominciare la discussione, cominciare un approfondimento su questi temi che, anche se sembra lontano, il 2021 è molto vicino, perché comunque una volta stabilito, una volta arrivati alle decisioni, poi è impossibile riuscire a incidere sulle scelte. Quindi è questo il momento in cui, soprattutto i più interessati, che sono gli agricoltori, che sono le imprese, abbiamo l'esigenza di divulgare il più possibile quello che oggi è lo stato dell'arte delle norme, insomma, che stanno maturando a livello comunitario. Naturalmente il discorso della sicurezza è uno dei temi, no? Sicurezza alimentare e sicurezza di qualità dei prodotti è una delle tematiche che più sta a cuore anche alla politica comune. Si parla di sostenibilità anche nell'ambito comunitario, noi riteniamo che la sostenibilità vada declinata in tutti i sensi, lo diciamo sempre, ma lo ripetiamo ancora. Prima di tutto occorre la sostenibilità economica, quindi vanno bene tutte le sostenibilità, se sta in piedi l'azienda agricola, l'impresa. Che è principale per evitare una sostenibilità. Ci sarà anche uno sguardo rosa verso l'imprenditoria femminile? Sì, assolutamente. Venerdì avremo la partecipazione di tante imprenditrici agricole associate a Confagricoltura che porteranno la loro esperienza in quello che è un messaggio di tradizione coniugata con l'innovazione e quindi porteranno anche quello che è il loro modo di gestire. Sicuramente posso dirlo molto più oculato rispetto agli imprenditori uomini, ma non per una piageria nei confronti delle nostre imprenditrici, quanto per una capacità veramente che hanno sviluppato e che sviluppano nelle loro aziende e quindi avremo questo focus rosa, chiamiamolo così, con un aperitivo peraltro rosa e quindi quella sarà la cosa ancora più interessante nel sentire il racconto delle nostre imprenditrici e della volontà di poter innovare mantenendo quella che è una tradizione e quindi cercando sempre più di far progredire quella che è l'agricoltura mantovana e le imprese agricole mantovane. Questo è venerdì, ore 18.30, lo dico agli amici di casa, Confagricoltura Village, quindi nella casa di Confagricoltura, sei sfumature di rosa. Mercoledì 5, come dicevamo, è il grosso evento d'apertura curato da Confagricoltura, ore 20.30 in sala convegna al padiglione Zero, appunto. 2021 la PAC cambia, queste le due tematiche. Poi c'è anche lo spettacolo, lo show cooking che in due occasioni proporrete al popolo di Fiera Milenari. Sì, ci sarà uno show cooking, uno giovedì alle 9.30 nella piazza centrale della Fiera Milenaria e l'altro all'interno del Confagricoltura Village, domenica alle 10.30. Però se mi posso permettere, Confagricoltura Mantovana si è connotata in quest'anni di partecipazione alla Fiera Milenaria, non solo e soltanto per il Confagricoltura Village, che è una cosa che è nata da quattro anni, bensì per la famosa cena convegno che organizzavamo tutti gli anni e che anche quest'anno riproponiamo cercando di innovare quella che è la formula, facendo una sorta di aperitivo convegno, visto che si terrà giovedì alle 18.30 presso il Confagricoltura Village, parlando non solo e soltanto di PAC, ma parlando di quello che è il futuro dell'agricoltura e come possiamo interpretare già nel presente quelle che sono le innovazioni, le nuove tecnologie e avendo uno sguardo non solo sulle normative, ma anche su quello che può essere il meglio per l'agricoltura mantovana. Lo faremo con ricercatori, lo faremo con scienziati, speriamo di farlo anche con politici, visto che li abbiamo invitati. I politici devono rispondere, se no cosa fanno? Allora ribadisco le date perché sono tantissime, è una meridia di appuntamenti in Fiera, Cooking Show a cui facciamo riferimento prima, 21.30 di giovedì e poi replica, possiamo dire così, il sabato dalle 18.19.30, Mantua Golosa, Padiglione 0. Meridia di appuntamenti. Sì, davvero, tantissimi. Faccio un passetto indietro invece all'appuntamento di domani praticamente sulle nuove opportunità anche imprenditoriali nell'ambito dell'agricoltura. Noi abbiamo da sempre caratterizzato la nostra presenza, oltre che per approfondimento su alcune tematiche che ci stavano a cuore, anche con il voler avvicinare le imprese, voler avvicinare i produttori su questioni più pratiche. Quindi saranno presenti all'interno del nostro stand, che è diviso in tre parti, fondamentalmente una parte aperta al pubblico generico e quindi ai produttori che vogliono appunto fare questo tipo, magari questo approfondimento legato alle nuove opportunità e ci saranno dei tecnici di conflagricoltura presenti a disposizione del pubblico per approfondire la possibilità di iniziare una nuova attività, start-up oppure i contributi che possono essere, quindi i piani di sviluppo aziendali che possono partire anche con l'aiuto dell'organizzazione. Poi abbiamo una parte dove sarà presente uno spazio di approfondimento, quindi alcuni soci presenteranno anche le loro peculiarità, le loro qualità e i loro prodotti e poi una parte divisa con tre spazi commerciali dove i nostri soci e Mantograno, che è un marchio di conflagricoltura e di alcuni partner, dove offriranno i loro prodotti al pubblico. Il discorso dell'approfondimento sulle nuove imprenditorie è una cosa che da sempre facciamo nei confronti di chi frequenta la fiera e ci conoscono, però anche per questa possibilità che hanno di approfondire questi temi. Viene a dire un'opportunità per molti, per tutti gli aletti di lavoro sicuramente, ma per tutti coloro che possono essere interessati. Decisamente. Bene, ringraziamo i nostri ospiti per essere stati con noi. Ci faremo per qualche minuto di pubblicità. Matteo, rimani qui perché continuiamo a parlare della fiera millenaria di Gonzaga. Grazie davvero. Grazie, grazie a tutti.